Salve a tutti signori, vi informo che questi video si rivolgono unicamente a un pubblico maggiorenne se non sei maggiorenne ti chiedo di chiudere il video adesso questi video mostrano alcune nostre giocate fatte nella nostra quotidianità che possono andare bene o male vi ricordo anche nel caso in cui vincessimo nel video che state per vedere che al gioco è più facile perdere che vincere cioè il motore di pagamento dei giochi di casino è concepito per restituire alla lunga un importo inferiore a quello giocato quindi se nella singola partita può capitare di vincere alla lunga è praticamente impossibile i nostri video non vogliono esortare nessuno a giocare detto questo buon divertimento e vi ricordo che il gioco è vietato ai minori anni 18 può causare dipendenza patologica, giocate sempre responsabilmente se vi manca autocontrollo vi sconsiglio di giocare e vi consiglio di divertirmi solo con i nostri video in maniera completamente gratuita buon divertimento c'è buon divertimento ben tornati signori a questo nuovo video della full 3 esatto torniamo alla full 3 che è un mese a più di un mese quando la proviamo e facendoci due botte alla 4 l'ultima volta provammo la gold normale provammo la 4 una vale l'altra test sound pagante è normale tutto normale e vai a bascularsi vediamo vediamo mi è mancato un pochetto ah ma ho accoggiuto era tanto eh eh una linea delle uova d'ola un patato uova d'ola e vorremmo che succede cari signori tenetetem apri di cesano ma tu tu apri di sedano io vorrei ma giusto così e cinque paglie su tutti i quadri o no io penso il meglio di no io penso il meglio di sì su tutti i quadri no ah ma perché lo è un quadro su beh se come stiamo adesso ci dà cinque paglie tutte quattro è buon sono cinque sono centenne sono 25 euro a quadro è come se eh come se avessimo preso 5 euro a un quadro mi sa fa un euro sai sai qua non succede un pio oggi vorrei fare qualche giocata un po' più pazza signori così giusto per cambiare un po' bettosini no sedici no sedici è da coglioni oh oh eh mezzo coglioni eh un quarto di coglioni no mezzo sì la metà ora vediamo ora ora vediamo che succede oh ma quanta nu oh ma terramoto eh signori come sempre vi ricordo che questa slot non ha stallo per chi non lo dovreste sapere you kids e io ci sta bene vaffanculo e dicevo non ha stallo non ha segnali positivi nel senso che lo so pagato a più di tot mandi all'ultimo tiro no non esistono segnali qua il segnali sono solo il pagamento da 10 euro basta quindi 10 euro non 10 per eh quindi nelle stradali non esistono eh no 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 noalis proviamo questo mezzo bascula gucci e riusciremo a rubarle a 20 euro no ora rifamesse quindi aveva più di 5 euro e lo vinciamo vabbè ci sta a bollire allora non c'entra assolutamente niente signori che ce l'ha fatto vincere o perdere è solo che anziché prendere non è paolo l'amico tuo anziché prendere la 5 euro e rubiamo la 20 e rubiamo la 20 40 esatto allora appena si mette a gallina l'andorza maotto due a tutti i quadri altra cosa signori se sballiamo con le uova come ben sapete non ci dà rimanenza la frittata è quella eh se si sballa se abbiamo che so 80 euro ci dà 4 uova davanzo un po' di pane con la frittata non te lo dà non dà avanzo oppure l'andetaus ovviamente non dà rimanenza con le uova o con un moltiplicatore bestiale qui non ce lo dà non ce lo dà il bestial eh niente basso qua galli non se ne vedono questo è un 30.000 like iscrizione al canale anche sui social che è importante trovate giù in basso discord, instagram tu se fai così non ti riesci una cosa oh così si ha fatto così 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 è è è è è è comunque basculato 44.0 però vabbè è stato un buon giro vediamo non abbiamo visto nessun segnale possibile perché pure se ci farà 80 euro non significa assolutamente nulla su questo cari signori e signore chi sta oggi la schiattano il basso tu ci chiama o ci schiatta che sta non già ho vinto troppe sfornesse è vero non lo so mi sento positivo non so perché perché so positivo tu pensi positivo a volte no mai proprio nella vita tu mai ho sbagliato proprio a formulare la domanda non pensi mai positivo io penso negativo perché so vivo perché so vivo è che scappare le pizze e ce lo fa rivingere cosa è la semplice c'è no non si fa questo e no speriamo che c'è un euro in più c'aveva 6 euro anziché 5 precisi ce l'aveva 5 precisi perché domanda domanda le mie mi do la risposta perché se la slot c'ha 5 euro ci fa rosakit ok le paglie scusatemi a 50 se ce ne ha 10 ci fa le tre uova che equivalgono a 4 paglie a un euro quindi noi prendiamo Ruyukitsu a un euro prendiamo 40 euro anziché 10 e così via se però la slot cioè c'ha solo 5 euro ci fa 5 paglie 4 paglie se c'ha 6 euro può succedere che cioè ci può fare un pagamento nel senso che se ci dà un euro e cioè se ci paga un euro non fa niente perché comunque c'ha 6 euro sto volendo troppo il brodo la devo dire in maniera più semplice allora cancellate tutte quelle cose se la slot c'ha 5 euro da dare ci dà 4 paglie va a fare se ce ne ha 6 euro possiamo anche farci pagare perché tutti i pagamenti che dà vengono scalati dalla rimanenza vabbè sono cose già dette e ridette non sono ringoglionito un attimo con le parole però il concetto spero che si è capito è chiaro che sì basta spiegalo per favore allora se ti devi dare un euro ti dà 3 galli a 50 centesimi su se ti deve dare 25 euro ti dà 5 paglie su 50 centesimi su perfetto non hai capito un cazzo ma io ti sto a dire se ti deve dare 10 euro ti fa come ho fatto prima con le paglie no io parlavo di rimanenza dello yukitsu dopo che ti ha pagato yukitsu ti dà 4 paglie ti dà 4 paglie ti dà 5 sacchetti però se non ti fa i sacchetti e ti fa un pagamento vuol dire no quel pagamento si te lo mascono a quelli yukitsu di prima esatto e non ti fa più un yukitsu non ti dà 40 da meno 4 5 6 euro a 14 7 euro che in quelli yukitsu vengono a mancare hai capito? si più chiara di questo anche la 40 euro ci deve andare a fare la soffrazione sulla partenza però là si deve fare la soffrazione che manca yukitsu quei spicci che ti ha dato e non puoi far più yukitsu e si perché li mancano quelli che ti sei presi prima esatto quelli che paghia e ci abbiamo intercure quindi non possiamo fare più yukitsu e se lo passa così esatto è facile si è facile si è facilissimo no non è una cosa è già tu guardi non è una cosa le stesse cose guarda qua guarda qua prima le ali guarda mo se non ci paga ok io faccio così e faro yukitsu oh questa mo c'ha 5 euro signori vabbè non ce l'ha pagato finché non ce l'ha pagato niente va avanti adesso c'ha 3 euro perché 2 euro ha scalato se ce ne ha 7 mi rifà yukitsu ok perché mo con 3 euro mi dà o 3 paie o 3 sacchetti niente no qualcosa deve fare forza però se ce ne ha di più ci vuoi rifare 4 paie ma vanno sotto strano ma vanno sotto va bene è semplice i concetti 1 10 euro 3 euro 5 euro mo si è annullato tutto quello di prima ora cancello eh mo dobbiamo aspettare un'altra volta yukitsu apriti subito 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 apri ehm oh è presto per ingasare perché signori come sapete se non dà le galline qua scordatevi proprio il gioco che non esiste che dà gioco senza aver dato almeno 3 galline ma pure se ci paga bianco non fa niente io già anni fa ci stavo il sistema U il sistema genese che tu stavi qua e annullavi sempre ma stavano diversi video ah no stavano non ci stanno più vedi 2 euro ora vediamo che c'ha però ci volevano giorni e giorni a straccare ci volevano noi ci mettavamo 12 ore all'handed house e 8-9 ore alla gallina per fare tutto però sia refill che carica e scarica dove annullare tutte le euro tutto dove aspettare sempre dove aspettare 50-100 significava che il bonus lo dovevi prendere a 50 centesimi e anziché darti 50 e gli dava 100 euro faceva 50 100 nel momento in cui ti dava 100 l'aprivi e mi si aveva accettato a pagare 3-4 mila 5-6 mila dipende il giro il giro che facevi bei tempi una volta ma se ti andavano due giorni eh no come ho detto no 8-9 ore la gallina 12 ore 12 ore ma devi fare veloce cioè devi stare a perdere tempo non devi scaricare soprattutto signori queste qua sono cose che noi parliamo di più a 2011 no beh oggi a 2011 mi sembra ancora che stava a 2010 ci stava ancora qualcosa ma è roba a 2007 in boll 2008 8 e quindi mi raccomando non vedete questa cosa che voi andate a chiudere una storia di questa che ci perdete è ovvio no queste sono cose che noi parliamo sempre di anni e anni fa signori ripeto 2008 8 in boia 8 9 ma è finito tutto adesso solo munizie cari signori comunque basta io non vedo proprio un pene in questa partita non so lei cosa avete refrigio refrigio ce l'abbiamo fatto sta poi sta poi i soldi vanno sotto l'abbiamo portata a livello a livello signori e sta bene così mosche e non la 4 euro i uviz sta bene queste sono qua che in versione online non esistono questi uviz no no signori sono completamente diverse le vmg sono completamente diverse non ci paghiamo hai fatto 2 mg sì vediamo se ce l'abbiamo e vaffanculo ci hanno 5 euro precisi che si può sapicciare non esistono più e no e questa è la 4 euro signori l'ultimo che me la tolgo che ci ha aggiusto 4 euro precisi perché ce ne aveva 5 euro prima e ci ha pagato l'euro e è andato a scalare sta bene e niente vediamo come come la va qua la gallina l'ha data finalmente e vediamo come va capicciolo mi sono lasciata una scapola e si va da zaiare e niente facciamoci qualche botta a 1 a bala a balacin a cin è sempre 1 come stavamo giocando prima però stavamo 50 50 quindi stiamo bene signori oggi abbiamo fatto due video da bar e mi sento leggermente sprogrammato signori fate sapere nei commenti cosa ne hai pensato della mia sprogrammazione sono sempre oggi leggermente e consigliateci altre slot altri giochi che vorreste vedere e che noi siamo capo appunto per questa una vale l'altra signori non ci fa alcuna differenza noi quello che ci dite quello facciamo lasciateci un commento scriveteci che siamo due ghioglieri ma giusto per ricordarci perché a volte ci dimentichiamo capito quindi è sempre a buone uno ti ricorda che sei un ghiogliero diciamo ci sta cinghiero? eh no la quattro ci sta questi sono due più due signori signori andiamo la piglia tu e questa ci siamo? che ho fatto? schifo questa è la due euro di prima dell'avanzo è quasi un pene caro basco vazzi non dà più di due cinque euro dieci no ho dato pure le gallinacce una fesseria cioè una sola volta beh mai non mi ricordo un pochetto di munachie no ma non c'è la fantascienza più di 40 euro di quegli uvizi nemmo visto nulla 20 20 18 euro allora noto che a euro è buono signori è un segnale positivo a euro scusa positivo e questa cosa mi preoccupa un poco signori perché se vediamo le tre uova da subito a 50 o quattro paglie a uno a 10 euro in modo parola è una partita diciamo positiva qualche speranza ce l'abbiamo ma se non vediamo quei cinque segnali esatto morti giusto basculati io le sapevo io le sapevo eh e jete e vediamo come si evolve che cosa è questo kit è un pronostico secondo me si mangia questa più 100 per dare qualcosa quindi si mangia questa 100 2 totale 200 euro per più sì non 100 euro quindi perdiamo 100 euro secondo me se non si mangia più per dare niente se mangia due paga beh dipende dipende sempre quello come sta quelle che muove l'occhio questa eh questo 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 come dice il blu quello che muove prima le albe sì le scende allora vediamo se se ne essano qualche modo con questi gallinacci se le ripete magari non le ripete un lastrone non le ripete assolutamente no come si gioca dovete prendere spunto per vedere quello che succede signori 50 a b no 20 ah cazzo da 1 euro 20 da 1 euro meno quale che non ci ho fatto usci che e meno un piano non dirà 8 perché no non si può e che serve sbalammo due 100 ma 8 dobbiamo mettere quando stiamo alti per farla sbalatana allora 2 4 6 8 questa è la 10 va bene fa questo no no 8 quando sei alto e fa la sbalata con le galline lo vedo lo vedo una patata 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 no 8 sei a 2 la linea no cioè linea quello è sempre sempre quello se ne fa niente patata 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 attiva che puoi fare una bella partita con le galline lì e ma là te ne accorgi che sta diciamo sta allegra la slota idem per il castello non fa niente l'importo che ci ha però su tre vuote serve per farti capire anche se quella quella cosa io non l'ho vista c'è da dire però aspettate aspettate che ce l'ha fatta a otto no quando stavano c'era dei sacchetti su tutti i quadri ma in tre no mi stava a cinquanta si no no era la quattro euro no pensavo che stava più alto e fosse ottenere si si un euro non c'entra un altro bene bene ma il tecnico lo iniziavo prendo come va ah tu lo sai che ne faccia signor sta il tecnico al pc però serve il mio telefono tu la sei messa allora signor una piccola pausa che si andrebbe un attimo la cosa al bolo come pubblicità stavo dicendo stavo dicendo se il tecnico dentro al pc che ci è indirizzato stammatina ma ne ha già miseria quello pc ce l'ha metto ce l'ha metto al cucino non hai visto con l'apparecchia che era un cartone che mi sembra non ricordo che è un cartone è tipo un casco una cosa come una pisa armonica da così con lo schermo legato non ce l'ho a presente non mi ricordi che cazzo ma io non so so mannaggia qua non succede un pene ci sta il lukizzo ma noi tanto da eserro lo so vittime stavano dicendo forse per te ridano la cera ma io non vorrei insistere ma secondo noi ci mangiamo anche fesserie ma per niente bro dice no non senti poco fiducioso a te che lukizzo te dice lukadra sempre l'arreglo della vita vai con voi e mi trovo bella mannaggia yukizzo no e sono ce la piglia un doppio e mannaggia a miseria è doppia possibilità non do padre vediamo che ce lo rifà se sta carica potrebbe pure farlo io ce l'ho fatto per parecchia carica eh e no hanno sempre risico risico fai un pingo casa tozza strughe e lo porto proprio a bale vi state iscrivendo al canale e 30.000 like anche sui social che è importante discord e anche instagram lo so lo so e so qui in basso in dash grazie non schippate il video perchè chi schippa non c'ha fatto per i noni arrivati che non usano questa frase della ripetata e bascola qua schippa lei copri qua questo non vale signori eh non vale perchè è stato non servito secondo piatto la seconda portata esatto e non va bene togli i rocchi come togli il secco lui sei pazzo non ci metto l'ora si te li dite altri è uno schema manca simboli buoni di buoni in boffano no ma il set esiste sai perchè perchè a volte fa la ci vengono il set fa la capo di buono per essere educati signori questo lo so nel giro il giro la bale sta facendo giro il giro ma non si vede la pagata del 10 euro io se non vedo quella io non so tranquillo però si mangia pure 50 euro però almeno sono tranquillo slagimi ma sono tutti slagimi e lì e le ricette pure e arriva bello le reti oh eh ma mancava poco 30 euro 20 euro nel luo però signori può essere sempre una contabilità un reti che può essere sempre parecchie cose quindi non fate mai affidamento ai soldi sopra ai soldi sotto perché non serve praticamente a niente una volta servio sono per spisi e sì che è rimasta questa tradizione o per pino o per voi che è serio oppure ora stanno a 200 euro a 300 euro all'epoca aveva senso che 500 1.000 1.200 da alcune parti allora sì che ha senso ma se vanno sotto nel svolto che c'è l'opera a 200 euro ma che cazzo ce ne facciamo però vabbè molto c'è una sta teoria sta bene fa fare un teo non significa niente ma che questo adesso è una 50 è una 25 a domani no più se è 50 sono inglese questo si è sbagliato scusa ma perché 5 è due po' a sotto qualsiasi segnale la linea su quello che fa fa sopra A a V a X a G non conta niente solo le pagate il sottotitolo la si ti ha dato punti per girare e meno male e managgia mi serve sempre con datori su eh si mi pare lo vedete sempre con datori in alto non è G è il 5 esatto ma prima e questo qua poi quello che dico sempre quando vedete ma è quell'altro questo qua sarà per sempre a vita uovo 10 signore massimo nel momento in cui vedete questa conformazione a 2 euro 24 vedete uovo 20 e bonus eh e bonus scusate è blu vabbè sempre con la B inizio ah ma le galline le abbiamo chissà siamo giudati e rimme come va mi piace la nutella sull'altra della panna quantità e ancora plesto plesto per metterla 8 signore plesto che panni a parte che aveva pochi soldi che cavolo facendo metti caso che puoi sballarsi vai no mi sto indenando vai vado a me un'altra gallinata a bascuale 4 volte che fa le galline si però le fa sempre in partite diverse eh si a me piace le fa due tre volte nella stessa partita allora può essere una bella cosa mo si facciamo qualche cazzata oggi però sempre con la testa eh ovviamente se no siamo i ghioghi non già siamo i ghioghi in roba di fabbrica ecco oh no bascula tu sei il capo diciamo che scegli tu quello che dici quello che dici tu è legge quindi è legge sì l'articolo sedicesimo pino non pino del libro della bucca però c'è l'articolo scritto sopra eh ma non lo sa ne signore articolo 6 dottorino che lo scrive articolo 6 comma 6a versetto queste sono comma 6a perché le prime le avp quelle a 50 euro l'inita massima erano comma 6 poi fece la versione a 100 euro comma 6a quindi perché io a 50 euro c'è invece c'era l'uovo d'oro che era 10 segnali 1 euro 3 se no se era un bonus lo busto è scritto 60 esatto quindi qualcosa dopo un anno di circa la capriola me lo so imparato vabbè le galline ce ne accorgiamo che parte a falare in deti pure se non va 5 galline però chi la conosce sa distinguere quando vuole fare un pagamento normale o quando parte a galline che non è detto che ci deve forza 5 galline per pagare l'uovo blu ci può fare pure pagamenti mostruosi che valgono come un uovo blu però anziché fare vedere quello vuole far vedere un'altra cosa ma è sempre quello comunque dopo un bel rigiro la slot ha azzerato stava a 4 però mannaggia la muschiglia mannaggia la muschiglia un ciglio abbassato fallo morire mannaggia la muschiglia ma chissà perché stanno sempre le mosche qua dentro non è che vi piacciono le condizionali non bene non piace nel caldo scusa bene non lo so signore fatevi sapere perché ci stanno le mosche qua dentro e il primo che leggo che dice le mosche stanno vicino alla merda VIMBAM prendiamo sicuro qua ti mi sto scrivendo eh vabbè piccola quando lasci la porta aperta è dentro una muschiglia signora quel moschillato ramuschikos vedi come sta a fare refile l'ho detto io il refile l'ho fatto prima ma continuo stanno maniando eh c'è lo sape che metti due non si sa se prendi uno e noi vediamo come si evolve e vediamo come si comporta si può sempre ribaltare tutta la situazione calcola che un massimo di 2,50 ci fa il segnale che speranza ce l'abbiamo sempre chi de speranza camba de speranza muore disse quello non so mai capito chi si però uno lo disse e la perdita non è il maschillato basculati e uno che capisce che cucita è caro basculati e basculati 400 500 meno di uno che fa la macchina io gizzo e mo ce la fa vince basculati è messo è messo non lo sarei mai chissi così così, casa pazzaiard, non ci paga, può essere pure che ce lo fa signori, può essere pure che ce lo fa, ma non ci facciamo paga, la chiudiamo, che giocata tecnica tattica, mannaggia miseria, e un altro euro scalato, piatto piatto, no, tutto piatto pancia, vaffanculo, 4 euro, casa 猴ri, pozza, piccaglie, 3 euro adesso, non vi ho, quella mano è piacinta dal centro, fatti dolce, fai 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 fai, ma neggia di questo, corpo, ma tu mica c'è E' caldo? 1.500 E' neggiala a 2 euro Questo è proprio il pallone da papà, la legge di Ho fatto tutto legge di E no, e no così Non ci scala E ci scala poi, non ci dà anche lui E' messo Non ci dà la 20 euro, signore Non te la provo Scusa te la provo Manneggia, è miseria signore Non tenetevi fuori Non si è manca messa a 4 Ma io ho cucito, non pagare Pucine almeno Pucine a quanta ne vuoi 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 Non è ancora qua? Si, giocciò così Pucine a quanta ne vuoi 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 Pucine a quanticlinach ananella bascoli incerto ananella ci dovrebbe stare non credo eh sperando che non ci paga tempo non è lotta mannaggia quanti muschigli che ci stanno fa oggi ma che cazzo è un massacrato di muschigli mamma mia è enorme è enorme a fare lo Jiuquizzo ma questo è lo Jiuquizzo vai poche non deve essere tre pasti una volta solo non è ansia amico tu vuoi vai ne oro ciascuno non fa male a Regino vai non so che se Jiuquizzo è messo bascolto è messo schematissimo è un mingio sta proprio in troppa perché la fase è messa di acqua oh vai ora andò è non dì la fai ora non bello e allora cinque uova un po' sì cinque parte mazzafu mazzafu quanta ne vuoi subito non c'è pulcino non c'è pulcino piglio togli questo lavoro è un mazzafu è scostumatezza togliere mazzafu quanta ne vuoi cosa poteva fare io tre quattro uova quattro tre uova a quadro sono vende vende ottane vende sono 100 euro perché poi ti faccio quattro baglie il bonus a bet 4 sono tre uova su ogni quadro e si carissagno ebbene si mannaggia la mosca mannaggia ma giovanile scudo miseria miseria accia blutta comunque per questo mi devo capire che è vuoto è proprio vagante signor mini vagante ma lo ce l'ho lo ce l'ho i temi io lo sapevo e poi la troppo non so finiti può sempre succedere un po di tempo è troppo finissimo è bello che ho un nostro mannescena manneneggia,... la prima sinistra Questa, subito, una ghiera, e vediamo di prendere un po' di gioco, le mille, io ho rilassato da perdere, la miglior cosa, noi scherziamo, ridiamo, comunque sono soldi già messi a conto che vanno buttati, perché quando si gioca, soprattutto qua, dateli per buttare, cioè non giocate voi con la speranza di vincere qualcosa, perché? Perché ancora non conosco chi ha vinto con il gioco. Esatto, cioè non è che siamo noi a dire, è proprio un dato di fatto, sì, possiamo vincere oggi, certo, come no, però domani, domani, settimana prossima, perdiamo, ispira suo sacchetto, comunque mi devo fare un zosso d'acqua prima che svengo. Eh, cosa vuol dire? Ah, cosa no? Eh, sì, va bene, che mi sto proprio sendendo, mi sto proprio sendendo lo svenimento, signore, porco giugno, è brutto, è troppo caldo. Ma guarda, se ci mette sto giupizzo, che può essere maledetto, è brutta scafosa. E ne aggiuntano le belle piccine, le due piccine, oh. Viene le tre pullas strun, signore. Signore, fai sapere nei commenti cosa ne pensate, eh, e consigliateci altre slot, soprattutto. E vabbè, che dobbiamo fare? 6 euro. Tiriamo a tre schermi, così, a piccolo. e vabbè che dobbiamo fare? andiamo avanti, un euro di merda non se lo prende scostumata no grazie, basta, basta prenda, prenda mi sento proprio lo svenimento come lo si è chiuso, se no lo devo andare a comprare l'acqua sono giuro, non sto a dimmi come sono giuro? vabbè, per altri tre e mezzo vende le bottiglie d'acqua il bottigliante devo ricaricare il suico a un euro è arrivato se io la faccio a 50, signori, sono... no, no, vedi ma sono venuti a due arti? no, no, di porco ma ci fanno una noccia d'acqua e ora farò ho un euro, sono tre uova a 50 centesimi, scusate sono tre uova però anziché 10 proviamo a provargliene 40 che ci aiutano molto ora zio buone, eh? a posto no, va buono, va buono attenzione è qua questa signora è partita a gallina aspettate un secondo vediamo, fammi vedere un attimo però quando fa pagamenti così anomali vuoi vedere cosa ti è rimasto tra 200? una chiede eh, 10 euro poi vediamo può essere pure un pagamento così però è un pagamento un pochetto anomalo quello, eh? no un pack della pack c'è un'altra e 10 euro allora, faccio a 1 euro abbiamo 4 palli e 6 e no 2, 4, 6, 8 e non ce l'ha a 10 euro c'è 8 euro quindi a 50 dobbia 4 palli ok ottimo direi ricordo 30 mila like iscrizione al canale e ai suoi social è importante le uova signori per chi ha detto che perché non le sono scartate e vabbè le solite cose non danno rivalenza le uova quindi è inutile portarsi a uscire 100 euro secchi voi fatelo io parlo per noi, eh? voi ovviamente qualsiasi cosa vi dà scaricate che non mi preoccupate se no non giocavo eh, ti a me basso queste ci sono ci sono galline queste ci sono chiamole allora aspetta può essere un'altra cosa allora lo so ho galline signori lo so ho è o segnale o uova quando fai pagamenti così anomali ce ne accorgiamo perché se pesce il gallino è un po' troppo tempo, eh? almeno che non arriva un altro falauro adesso non lo so e mi sa di sì basco che ci sono mi sa di sì perché le gioiazioni male? e che fa lo girare? quindi poi va bene continuare a lavorare nel momento in cui le gallina mettiamo a otto così sbalatando questo è rischioso non lo tolgo è troppo rischioso eba se ci metteva una cosa ci faceva uscire noi visto che abbiamo messo tanto signori io non la faccio uscire perché se la faccio uscire ce la prendiamo in del cuore non lo so non lo so non lo so sei fiducioso appassa la le galline al boss eeeh come? cioè fai la scala di punti ce l'ho provato viene stronzata ok, va bene aspettiamo come per appassare ah no no apri qua non usciamo perché se ci dà due sta bene ma no se ci dà due 20 euro mi vuol dire 5 perché le fa 80 o 6 le fa pari sta bene questo gioca sempre pari mai dispari assalto no se ci fai caso quando hai qualche un calcio salsa è un caso raro lo so come sei un uomo patato uomo io la chiudo un attimo signori giusto per non farla uscire scusate un attimo e non vi preoccupate tutto sotto controllo signori sotto controllo perché a me non piace come ben sapete farla uscire pari pari ancora non è ora di mollastroni e di galline sicuro no di 5 eh di metterla 8 volevo dire qua basta ci mette 3 galline per quadro e ci ha fatto uscire ce l'abbiamo intercuter partita a razzo eh eh potrebbero essere pure galline per sotte non vediamo che succede anche se sta girando abbastanza quando fa le galline me le da subito difficilmente tutto sto tempo ce l'avete quindi il segnale quando lo fa? può fare eh sì o segnale o bonus sempre se non la facciamo uscire cosa che è abbastanza difficile perché se vuole usci signore questa esce lo vediamo lo vediamo oh ora cerchiamo di mettere il più possibile eh sperando che non ci schiaffa 3 galline a quadro e la ci fa fuori ci sono tanti tentativi e lei bebe e lei bebe e lei bebe il tentativo ma tu tu tentativo? che no? ma no ah grazie eh E' brutto, che capita a te lo svenimento? Non ti capita lo svenimento? Tutto il giorno Ah si? Ero Perché lo svenimento, mi tengono sogno? Quello è il sogno No, no, no E' ogni tanto, quando fa troppo caldo Mi spegne Niente, niente Per le peppe, come si aggiranno? Ma ce le fai vedere queste 5 paio su tutti i quadri? O no? Perché se ci fai vedere 3 uova su tutti i quadri Esatto Perché sono 10 euro al quadro Quindi 40 euro Più 3 paio su tutti i quadri Che sono 10 euro Sono 8 euro Ma il segnale è quello Se ti dai 5 paio Come quando si ti dà le uova? Si, c'è un euro Non è il segnale No, il segnale è solo 3 uova su tutti i quadri Così Ma se stiamo a 1 Se stiamo a 1 E' buono Mi sono 20 euro a quadro E' girato un po' Sacchetti Basta 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 Non c'è Basta Basta deve succedere qualcosa. Questa è la partita che deve succedere qualcosa, quando becchiamo una partita lunga, lunga, che mandire. Se le mag, è sempre un film. Sempre, sempre, sempre. Eppure c'è da dire che c'è stato poco gioco all'inizio, quindi in teoria doveva durare pure meno sto video. Eh invece? Adesso? Vabbè 50€ non faceva niente, andavo a tante. Ma da quando è che non perderemmo il bonus? Ma pure i 100€, tanto i 100€ a prendere, però fai tu, faccelo vedere, sempre sto cazzo a disegnare. Ma metti 200, non bisogna rispondere, pure un bonus. Era in base 180€, 190€. Non era... non era più giusto. Ma una chiega, quante ne vuoi... Signore, fa caldo dalle zone vostre, eh? Noi qua io non so quanti gradi ci stanno, ma mi sto sentendo male, veramente. Nonostante qua nella sala abbiamo... Allora è condizionata a manetta, ma fuori non si respira, signore, non si respira. Una cosa spavendosa. Ma come mi fa quando viene settembre, ottobre? prova. Pala! Sta bene... Peri, peri, peri... Peri, peri, peri... E peri, 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 peri... Peri, peri, peri... Peri, peri... Eh, mettono bene a fare anche qui. Sei maledetto! Mamma mia, è impossibile signore, non vi può fare cinque uova così, se ne è proprio programmata, non può fare. Faccio vedere questo bel bonus, vaffanculo, mamma mia, dopo tre ore pure le gallinacce si vedono, comunque signori potrebbero essere galline finte quelle che ha fatto prima, perché quella era una partenza delle galline, quella partenza del razzo anomale che abbiamo visto, e ci si è aggiunta la partita che vuole rigirare, vedete la partita lunga pre-segnale, pre-bonus che mi fa girare, mi fa girare per fare qualcosa, sono combaciata le cose, e niente, è uscito questo, ma spesso lo fa, spesso lo fa. Eh signori, questo, ditemi quello che volete signori, ma è uno spettacolo, questo è bonus signor, cinque uova, allora signori, il bonus finalmente ce l'ha fatto, vediamo però, secondino, anche se è difficile, vedete, che la fortuna nostra sono bonus di 100 euro, 150 euro, ora vediamo se continua, ma vediamo se continua, è un bonus di 150 euro, ora vediamo, non dite che se partivo a 100 euro, perché sennò vi vano signori, ve lo dico già d'amore, sappiatelo, e niente, ancora non chiudo, non fa la rimanenza, quindi potrebbe arrivare un'altra fila, fin quando non darà una chiusura, ci sta sempre la speranza, quando mi dà il bonus, io parto sempre basso, nel senso che mi dà 100 euro, ok, se la fortuna vuole continuare il bonus, quindi più di 100 euro, la prendo a 50, mi dà 50, poi faccio il tiro successivo, 49 e 50, la schiaffa a 100, mi dà la fila di uova a 100, più di 49 e 50, e così via, quindi riusciamo a rubare qualche soldarello, ora vediamo però che vuole fare signori, quindi ora che ha fatto questo giro, insieme il bonus, un paio di uova che sarebbe un bonus, si, ora che è ripartito subito, e ora vediamo che fa, la fila vorrei far salire un po', così da rubarle più possibile, e ora vediamo signori che succede, facciamola la gira un po', potrebbe sempre arrivare qualche altra fila, anche ripeto, dobbiamo sempre 100 euro, 150 euro di bonus, quello che abbiamo, abbiamo una fila e mezzo, se tiravo a 1 euro, la, mi dava 5, va, io ho tirato a 5 euro, solo così, ora sta a girare, ora ho fatto una fila di uova, 50 euro, e voglio vedere se me ne fa un'altra, capito, se ne fa un'altra, fa due scambi, se no era un bonus da 150 euro, pazienza, e ci da 100 quando siamo in 10 euro, e non siamo fatte niente, poi consumiamo troppo, inserava niente, questa è una piata della sorgente, le mie sono passate, come lo sapete, ah non avevo capito, hanno fatto, la sorgente dov'è stata, la, io d'olta, ah si, sembrava lì, è buono, ma non lo trovera, fanno il ricarico, però, non lo diceste, è buono, Guardate che culo, guardate una rosetta! Almeno va! Sicuro, ancora nulla è perduto! Indisibile! E' buona! E' la fresca fresca! Direttamente delle sorgelli! Appena raccolta! Ma stiamo mettendo i like? Ma a chi ve lo ripete ci sono andati quasi un'ora di video, quindi... E' quello purtroppo che ci frega! E' quello che lo frega! E poi te lo dava subito, te lo dava subito! Vi ricordo 30.000 like, iscrizioni al canale, vi bisognerò avere 100.000 iscritti e anche sui social, l'importante te lo vedi giù in basso, Instagram, Discord del tutto! Esatto! Vi sapri i quadri Ma che facciamo? Fallo uscire! Tu dici? Il film continua! Tiene prima parte! Io veramente la volevo mettere qua a 50, però come tempo, signori! Non ce la facciamo! Questo può arrivare anche all'ultimo tiro, capite? Aspetta! 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 Facciamola scendere un po'! Aspetta! Facciamola scendere un po'! Aspetta! Questa è tosta un po'! Sta a fare una bella giocata, però... Quello! Questa ci frega! Se me la tiro ci frega! Posso? Speriamo che no! Ma lo sarei mai creato? No, 10 basso! No! Vabbè ma non esce no! Come non esce? La settimana come è? Eh sì! Mettila a 16 e stoppa un po' di botte! No, esce così! 8! Esce sì! No! No! Mettila a 16 e stoppa un po' di botte! Eh no! Così lo abbassi! Eh no! Vabbè non voglio abbassare troppo 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 troppo! Eh no! Sì! Ah! Si già stava più tranquillamente! Per le cose che le devo dare dare a parire! Quello sì! Ma ora la manderemo in basso! La volta che la recuperiamo va benissimo! Mo! 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 Mo le deve mettere! Mo le deve mettere! Ma quando doveva? Sì! E una carta! Non la mette eh! Sei maledetta! Non serva a niente però vabbè tiro eh! Perché vi ricordo signore che non sballa con le galline eh! Con le uova scusate! Come gara! Che caracca! Adesso mi può fare un tiro d'acchetto? Eh si esci subito! Esci subito! E tu esci subito! E non ha già manco una bella falare! Galline non ce le indorza! Quelle ci servono! Le galline signore! 33! Il civico! Il civico! Bi bananza! Mh! Non è già qui seria! Ma sei stato capace di aver portato la 33! Ah! Ma che c'ho? Tutti io! Ma come lo facciamo? Ehm! 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 come tre! Come tre! S oro due le gumi! Poi vieni i gums! genuinely! Consiglierà le gums! e c'è ancora la fila dentro, la fila di bonus dentro non c'è più la fila di bonus, appunto 150 euro di bonus era, signori quello era pull and drop, quindi ci possiamo pure fermare eh, si questo qua è il rischio, perché pensando che ci aveva le 5 uova dentro, ancora ciò se ne piace l'interpool, purtroppo potevano pareggiare ma abbiamo perso 100 euro, signori e niente, ah, questi che purtroppo sono i rischi e abbiamo azzardato, ci è andata male stavolta ricordiamo che ero giocatore di bet, voi non giocare non invitate queste partite, questi bet sia qui che ormai purtroppo sì, e vabbè, che cazzo ma fa probabilmente ci condiviamo noi per cazzo i nostri, signori ma giusto per prendere 100 euro, sicuramente entra male detto questo, vi ricordiamo come sempre che il gioco è invietato in minorità del gioco se non puoi causare dipendenza patologica giocate responsabilmente il consiglio nostro è quello di non giocare iscrivetevi al canale e lasciate like e anche se i giochi è importante domani, buon fine settimana e domani è macco, max win sì, macco macco domani è missione max win la domenica esatto, buon weekend signori noi ci vediamo domani è un po' di attenzione ciao 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 ciao